buongiorno a tutti eccoci qua arrivati a dicembre amici miei e sta per iniziare tra un po' il winter edition a Remi per la ginnastica ci sarò anch'io le nostre ginnaste verrà per la prima volta in Enea quindi sarà anche mio figlio a vedere queste bambine e intanto però vi farò vedere cosa è successo a novembre visto che da un po' di tempo che non ci vediamo abbiamo visto tante gare tanti primi posti secondi terzi coppa italia ovvia dai abbiamo quasi finito questo 2023 sicuramente in crescita quindi non ci rimane che salutarci e vederci a ginnastica in festa ciao a tutti wow si sulla testa eh brava brava no la dovresti partire da per fare flick e lo fermo camilla sta plegando vai cami spacca tutto vai che ci sei stacco e poi entro con le braccia non è che l'hai già fatto ok buono facciamo il volo di nostra amica linda quanto salterà e spingerà beh si era un angelo che volava prima attaccalo gira non sederti perché pensavi al salto grande dai 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 che è arrivata? Asia con le tre chi entro... cosa ho fatto? non ho fatto, hai fatto uno squara qua qua ma non è la squara qua qua era un mezzo avvitamento, quasi un avvitamento intero non ho fatto nulla, non ho giusto perché ti avevo voluto a casa mi tiro altra voce un po' di tempo fa ho fatto qui quello... così eh, avvitamento posso farlo? qui? aspetta aspetta molto cold dai, dita non era così non era così ritti gamba tesa brava stringi le mele vai, gobba la schiena tutte insieme anche il bacino scende in gocciolino ok brava brava dai Daphne Daphne dai gamba ok bieg vieni Oh, grande Alzia! Buono, Cam. Meglio, bravissima. Tappeggio. Brava. Dai. Braccia. Buono. No. Dai. vai no, è il primo è il primo questa è bisogno di l'altra è difficilissimo accettate accettate vai Camilla ciao vai ciao vai 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 bravo vai 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 hai capito? brava una semietta vai 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 ciao ragazzi siamo nei video vai Chiara vai Chiara suuuu che brava suuuu continua vai 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 dai Chiara no no i è cazzoso vado lì dai Cammy forza no, 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 no forza vai Cammy Stai dritto, stai rinaggianto! Dai Cami! No! Dai dai dai! No! Dai! E hoppam! Meglio questo, bravissimo! Dai Linda! Chiudi app! Quanti ne fai, ne fai! Una! Basta! E basta! Per oggi! Per oggi! Faccio questo per oggi, per domani faccio questo! Eh, è in ritardo l'avvitamento eh! No! 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 Hopp! Un ragno! Buongiorno! Giammi tesi eh! Dica! Giammi tesi eh! Dica! Stendile! C'è! Tanti! Ah che bocca! Ah! C'è! E ridi! No! Belissima la cosa! E' l'altra cosa! Ciao! E' all ciao! via si avvicina si avvicina a Rivili